Buonasera a tutti, ben ritrovati al TG7 Basilicata, al nostro appuntamento quotidiano con l'informazione regionale. Partiamo come ogni sera dalla cronaca. Con il coordinamento del questore di potenza, il personale della sezione antidroga della squadra mobile, ha tratto in arresto un 25 anni potentino in quanto coltivava marijuana all'interno di un appartamento situato nei prassi della questura. Investigatori entrati all'interno dell'alloggio che il giovane utilizzava come laboratorio per effettuare tatuaggi hanno notato, in un locale protetto da un armadio, una tenda adibita a una serra indoor rivestita da isolamento termico, costituita da pannelli termoriflettenti collegata ad un impianto di ariazione per garantire il necessario ricambio per far confluire gli odori e alimentata con lampade alogene, utilizzate per la fornitura della corretta gradazione luminosa. Nella serra sono state rinvenute ben 17 piante di canapa indiana del tipo marijuana, alte circa 80 cm, con relative foglie e infioroscenze, in fase di essiccazione. Le ulteriori fasi della perquisizione hanno consentito di rinvenire strumenti professionali utilizzati dal giovane per coltivare e confezionare lo stupefacente, fertilizzante, sacchetti di concimette, riccio, vasi di attrezzatura da giardiniere. Su disposizione della locale procura della Repubblica, l'indagato è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, mentre l'alloggio è stato sequestrato. Questa mattina si è conclusa l'iniziativa lanciata da Acquedotto Lucano in occasione della Giornata Mondiale dell'Acqua, istituita dall'ONU per sensibilizzare e promuovere azioni di tutela della risorsa idrica. Il tema centrale della celebrazione di quest'anno è valorizzare l'acqua e sensibilizzare l'umanità all'uso consapevole della risorsa idrica, bene e inestimabile per l'intera umanità. Acquedotto Lucano, per l'occasione, con la condivisione dell'Ufficio Scolastico Regionale della Regione Basilicata, ha voluto lanciare una sfida attraverso la partecipazione delle scolaresche degli istituti di scuola primaria e secondaria di primo grado di tutto il territorio regionale, al Contest e Dio Cosa Faccio. L'obiettivo è stato quello di stimolare la creatività dei più giovani che rappresentano il futuro e realizzare un proficuo momento di riflessione sul valore dell'acqua e sulle azioni che si possono compiere per tutelarla. La salvaguardia della risorsa idrica è una necessità che obbliga tutti, a partire proprio dai cittadini più piccoli, ad un uso consapevole di essa. Delle rappresentazioni e dei racconti prodotti dai ragazzi, comprese anche quelli riportati in formato digitale, è stato realizzato un libro, donato questa mattina agli istituti scolastici che hanno aderito all'iniziativa, tra cui l'Istituto Comprensivo Torracabonaventura e l'Istituto Comprensivo Busciolano, dove si è tenuto l'evento conclusivo. Il titolare di una ditta boschiva e il direttore dei lavori sono stati denunciati dai carabinieri forestali ad Aliano dopo la scoperta del taglio di numerosi alberi in un bosco di Valle Carbone, eseguito senza alcuna autorizzazione. In un'area di oltre 7 ettari sono stati abbattuti aceri, orniello e cerri anche di grosse dimensioni. La legna ricavata, stimata in circa 720 quintali, è stata venduta. Io come sempre vi ringrazio, vi auguro una buona serata e a risentirci qui al Tg7 Basilicata. A domani!